Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura ci occupiamo di ambiente. Il Forum dell'Acqua Abruzzo ha denunciato questa mattina nel corso di una conferenza stampa la presenza di solventi nelle acque del Gran Sasso. Solventi che provengono dall'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare che si trova proprio sotto il Gran Sasso. Andiamo a sentire insieme il servizio di Paolo Renzetti. De Santis, oggi denunciate un fatto grave che riguarda le acque del Gran Sasso con la presenza di solventi. Che cosa è accaduto? Lo scopriamo intanto dopo 4 mesi solo grazie a un comunicato stampa scarno della Regione Abruzzo che dichiarava ieri l'emergenza idrica nel Terramano. 100 litri di acqua al secondo non possono essere più mandati nei rubinetti dei Terramani ma devono essere mandati a scarico nell'ambiente, nei fiumi. Perché il 2 settembre c'è stata questa contaminazione. Ora, pare che il 2 settembre immediatamente sia stata mandata l'acqua a scarico quindi nei rubinetti pare che non sia andato a finire nulla però lo sappiamo da dichiarazioni sulla stampa, non da documenti ufficiali e c'è stata una contaminazione delle acque del Gran Sasso. Bene, questo è un aspetto molto grave. Intanto che si viene a sapere dopo 4 mesi, mentre ci sono degli obblighi di legge per tutti gli enti pubblici, di avvisare i cittadini anche quando non c'è un pericolo diretto per la salute ma che c'è stato un problema. Il fatto che non si possa più caputare una quantità tale di acqua dal Gran Sasso ma bisogna andare a reperire col potabilizzatore già questo è una questione da chiarire, da dire ai cittadini anche perché paghiamo le bollette. Ora, l'aspetto ancora più grave è che sono passati 4 mesi il sistema laboratori del Gran Sasso, gallerie autostradali e anche quello che può avvenire a Campo Imperatore e quello è un sistema complesso, carsico dove la contaminazione potrebbe avvenire da uno o più punti. Allora, dobbiamo capire intanto se gli enti hanno avvisato immediatamente il Parco Nazionale, la Procura della Repubblica, il Corpo Forestale dello Stato e per accertare la fonte di questa contaminazione se è un aspetto singolare oppure che addirittura potrebbe insomma riguardare una contaminazione più ampia. Su questo evento avvenuto lo scorso 2 di settembre c'è anche una nota del Ruzzo il sistema di controllo che effetto analisi ha immediatamente bloccato l'emissione dell'acqua nel circuito il gestore idrico del Terramano, cioè la Ruzzo ha chiesto i danni in via risarcitoria nei confronti del laboratorio di fisica nucleare del Gran Sasso la ASL ha vietato il prelievo di acqua di vieto che persiste ancora oggi una nota della Regione Abruzzo aveva dichiarato come abbiamo sentito lo stato d'emergenza idrico dopo le disposizioni cautelative emesse dalla ASL per le acque provenienti dai laboratori del Gran Sasso del INFN il provvedimento ha ridotto la disponibilità idrica della sorgente del traforo che non è più in grado di garantire i volumi necessari per l'acqua potabile ecco dunque la richiesta di danni da parte della Ruzzo ai laboratori la stessa Ruzzo però si è affrettata a spiegare che in questi mesi non è mai accaduto che acqua contaminata sia stata immessa nella rete i sistemi di controllo infatti scrivere la Ruzzo lo impediscono andiamo avanti con il nostro giornale questa mattina il procuratore della Repubblica di Teramo Antonio Guerriero ha ringraziato ufficialmente il corpo forestale dello Stato per l'impegno e la professionalità dimostrati alle popolazioni colpite dal sisma e soprattutto nelle aree interne è stata anche l'occasione per tracciare un bilancio di fine anno delle attività sentiamo il servizio di Tania Bonici Castelli il procuratore di Teramo Antonio Guerriero ha voluto esprimere a nome dei magistrati e del personale della procura teramana un ringraziamento particolare al corpo forestale dello Stato per l'aiuto e l'impegno a favore delle popolazioni colpite dal terremoto Guerriero ha anche ricordato che la professionalità acquisita dai forestali è frutto di generazioni che hanno speso l'intera vita per il compimento della loro missione tutelare boschi, fiumi e tantissimi piccoli centri che ora rischiano di sparire qual è il bilancio del 2016 della vostra attività? La nostra attività tutto sommato ha avuto dei riscontri positivi nel senso che sul fronte degli incendi boschivi abbiamo avuto delle diminuzioni e delle segnalazioni abbiamo effettuato poi nell'ambito del controllo del territorio dobbiamo registrare un'intensa attività di collaborazione con l'autorità giudiziaria per quanto riguarda la situazione dei corpi idrici e per i quali abbiamo riferito a più riprese sullo stato di alcuni di essi che sono stati oggetto di ricerche ai fini dell'accertamento di eventuali inquinanti La realtà è in provincia di Teramo che tutto sommato ci sono dei momenti di accumulo e sono soprattutto dei momenti di criticità nei periodi estivi nei periodi estivi c'è una diminuzione significativa della portata dei fiumi e quindi una diminuzione della capacità autodepurativa e in concomitanza con la presenza di numerosi turistici nella zona litoranea si creano problemi di questa natura quindi per quanto riguarda la presenza di inquinanti proprio da colibatteri e cose analoghe e quindi il quadro cambia che peggiora notevolmente nel periodo estivo rispetto a quello invernale In conclusione il procuratore Guerriero ha anche sottolineato l'importanza fondamentale nel presidiare le aree interne affinché non vengano abbandonate ed ha rinnovato la massima stima per il lavoro quotidiano che il corpo forestale ha svolto e sta svolgendo nei borghi feriti dal sisma E proprio di sisma parliamo nel prossimo servizio restando a Teramo ad oggi sono 500 le ordinanze di sgombero firmate dal sindaco in un mese e mezzo di controlli successivi al terremoto solo nella giornata di ieri sono stati 7 i provvedimenti firmati 11 le famiglie obbligate a lasciare le proprie abitazioni Elisa Leuzzo Cresce l'emergenza abitativa a Teramo gli sgomberi sono arrivati a quota 500 le aree più colpite sono quelle periferiche una soprattutto che con il passare dei giorni sta diventando un quartiere fantasma si tratta di Collaterrato zona gran parte occupata dalle palazzine popolari oltre 120 le famiglie rimasse senza casa per molti di loro è un dramma oltre l'incertezza sul futuro il problema principale sono i soldi gli sfollati hanno diritto al contributo di autonoma sistemazione per pagare l'affitto di altri alloggi ma i fondi della protezione civile non arriveranno subito pertanto le famiglie sfollate dovranno anticipare le spese i primi rimborsi saranno distribuiti con i 250 mila euro ottenuti nei giorni scorsi dal comune destinati a coprire i costi della prima emergenza ma la somma non basterà a saldare il conto di tutte le famiglie costrette a traslocare ad oggi sono 500 le ordinanze di sgombero firmate dal sindaco in un mese e mezzo di controlli successivi al sisma solo nella giornata di ieri sono stati 7 i provvedimenti firmati 11 le famiglie obbligate a lasciare le loro abitazioni e le ordinanze di sgombero sono in crescita anche nei comuni dell'entroterra nel comune di cortino sono state emesse 280 ordinanze a rocca santa maria sono 85 con ancora 82 sopralluoghi da effettuare a Tossicia le ordinanze sono 140 e le verifiche non sono ancora terminate 80 sfollati a Castelli dove molte attività del borgo, botteghe artigiane hanno dovuto chiudere intanto con il via libera dell'aula di Montecitorio la Camera dei Deputati ha definitivamente convertito in legge il decreto sul terremoto i centri abruzzesi del cratere sono 14 11 in provincia di Teramo, Campli, Castelli, Civitella del Tronto, Cortino, Crognaleto, Montorio, Rocca Santa Maria, Torricella Sicura, Tossicia, Valle Castellana, oltre a Teramo Città e 3 in provincia di L'Aquila, Montereale, Campotosso e Capitignano nel decreto contributi a privati e imprese sospensione per sei mesi dei termini di pagamento delle fatture relative alle utenze energia elettrica, acqua, gas e il canone RAI inoltre è prevista la sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi ai singoli soggetti danneggiati fiscalmente domiciliati nei comuni del cratere in ognuna delle regioni colpite è prevista l'istituzione di un ufficio speciale per la ricostruzione la sede abruzzese dovrebbe essere a Teramo la regione Abruzzo inoltre si è impegnata ad aiutare anche i comuni terremotati del Teramano e dell'Aquilano che non sono rientrati nel cratere sismico andiamo avanti, ora ci occupiamo di sanità il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Lorenzo Sospiri contesta il nuovo piano regionale di costruzione degli ospedali denunciando come l'arrivo dei fondi pubblici avrebbe ricadute sulle tasche dei cittadini abruzzesi sentiamo intanto registriamo con piacere che quanto noi abbiamo iniziato a fare nel 2012 ovvero indicare la realizzazione dei nuovi presidi ospedali di Lanciano, Basto, Avezzano le ristrutturazioni di Sulmona e di Popoli il nuovo 118 dell'Aquila e la realizzazione ospedale di Giulianova questo lavoro durato tre anni oggi trova una conferma perché il Ministero ha risposto positivamente alla programmazione fatta allora dalla giunta di centrodestra e si è detto disponibile la stanza del 40% delle somme per realizzare questi nuovi ospedali cosa cambia rispetto a noi? noi dicevamo a un privato guarda realizzaci il nuovo ospedale in questo modo moderno questa è la parte di finanziamento pubblica prenditi gli immobili vecchi e costruisci tu un progetto su quegli immobili vecchi la nuova giunta, quella d'Alfonso, dice eccoti soldi pubblici gli immobili vecchi ci restano a noi sul groppone quindi nelle varie città Lanciano, Avezzano, Vasto e Giulianova e io quello che ti manca te lo darò per il tramite o ti faccio gestire i servizi ospedalieri o ti pago un canone insomma, beata a chi lo vince questa gara perché prenderà soldi pubblici da una parte e soldi pubblici dall'altra forse guadagneremo qualche mese in più nelle realizzazioni ma certamente faremo spendere molto ai cittadini abruzzesi per realizzare questi ospedali o meglio, non potremo avere manovre riduttive della pressione fiscale ed ora le scuole per l'anno scolastico 2017-2018 i sindacati denunciano un dimensionamento con gravi ripercussioni sugli studenti di Pescara e provincia previsto un liceo scientifico all'interno del classico d'annunzio in città poi altre novità per il Mario dei Fiori di Penne per le scuole dell'area Vestina sentiamole si parla di problemi della scuola in Abruzzo del dimensionamento della scuola vogliamo parlare in concreto di quali sono queste problematiche lunedì pomeriggio siamo stati convocati dal presidente della provincia alle 15.30 proprio per parlare del piano di dimensionamento della rete scolastica 2017-2018 dopodiché ci hanno preannunciato delle cose che intendono fare che non hanno praticamente una logica razionale l'istituzione di un nuovo indirizzo scientifico al liceo classico di Pescara considerando che abbiamo altri tre licei scientifici a Pescara e praticamente lo spostamento del presso di Civitacuana dal comprensivo di Civitella Casanova al comprensivo di Rosciano creando così dei problemi di dimensionamento in futuro per Civitella Casanova e poi l'indirizzo linguistico al Mario dei Fiori di Penne creando così dei problemi poi al Marconi che ha un indirizzo turistico sempre di Penne tutte le sigle sindacali a livello unitario sono state compatte nel dire no nel dire soprassediamo per quest'anno apriamo un tavolo tecnico a marzo appena finite le iscrizioni e poi vediamo cosa succede ci chiamate dieci giorni prima per darci una cosa da ratificare non siamo assolutamente d'accordo Ed ora il sociale si è tenuto questa mattina a pescare un incontro sulla nuova legge nazionale in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare l'assessore regionale alle politiche sociali Marinella Sclocco ha annunciato lo stanziamento di oltre un milione e ottocentomila euro proprio per questa emergenza allora andiamo a sentire il servizio Assessore Sclocco, importanti novità questa mattina per quanto riguarda la disabilità grave nella nostra regione ci sono dei fondi? Sì, quasi due milioni di euro per garantire l'autonomia e la vita indipendente ai disabili durante la vita dei propri genitori per consentire poi ai disabili di avere una vita autonoma anche quando i genitori non ci saranno più il tema del dopo di noi è un tema che affligge tutte le famiglie da appena i bambini nascono perché è un pensiero continuo ripetuto dei genitori e finalmente l'Italia con questa nuova legge sul dopo di noi ha fatto un passo in avanti in termini di civiltà e di diritto oggi spieghiamo grazie al dirigente Ferrante del Ministero delle Politiche Sociali spiegheremo come in Abruzzo potranno essere usati questi milioni di euro per creare dei mini appartamenti proprio per i disabili Quanti sono Assessore e persone interessate da questo progetto? Beh tutti, molte persone interessate perché i disabili bambini diventano adulti perché ci sono molti adulti già appunto disabili è una popolazione molto ampia noi abbiamo diciamo che il 38% delle risorse quindi delle risorse importanti del piano sociale sono dedicate esclusivamente alle politiche della disabilità della disabilità quella diciamo che abbiamo durante il corso della vita ma anche quella che acquisiamo poi in vecchiaia la regione Abruzzo è una regione che invecchia e questo invecchiamento come dire comporta anche delle malattie legate all'invecchiamento che poi appunto portano alla disabilità quindi è un tema importante Nell'aula congressi dell'ospedale di Teramo è stato presentato il progetto di screening sui disturbi dell'apprendimento parteciperanno oltre mille bambini teramani di età compresa fra i 3 e i 6 anni appartenenti ad 11 istituti scolastici mille bambini teramani dai 3 ai 6 anni di 11 istituti cittadini saranno presto sottoposti ad uno screening per il rilevamento di disturbi specifici di apprendimento un intervento importante che prevede anche la formazione degli insegnanti il progetto è stato proposto dal Consorzio Futura socio principale del centro di riabilitazione San Stefar di Teramo In che cosa consiste lo screening? Cosa gli farete fare a questi bambini? Allora noi da gennaio presenteremo delle attività standardizzate sotto forma di gioco all'interno del contesto classe in compagnia delle insegnanti referenti dei nostri bimbi saranno delle prove collettive atte a misurare il livello raggiunto nei prerequisiti agli apprendimenti scolastici non al fine di effettuare una diagnosi o di individuare un particolare disturbo quanto piuttosto per indirizzare le attività didattiche ed eventualmente terapeutiche future al raggiungimento di un obiettivo condiviso con genitori e insegnanti Scoprire che un bambino in età prescolare soffre di disturbi dell'apprendimento è davvero importante perché permette con una terapia adeguata di sconfiggere il disagio in quest'ottica si muoverà lo screening sul DSA Quando un genitore si deve preoccupare o anche un insegnante per disturbi o presunti disturbi dell'apprendimento in un bambino? Diciamo che un concetto assolutamente importante di chi fa il mio lavoro è il concetto di tempo cioè ci sono delle tappe che i bambini normalmente acquisiscono nel corso degli anni e nel corso del loro sviluppo Le insegnanti solitamente hanno una grande sensibilità nel capire quando un bimbo acquisisce queste tappe in ritardo parlo per esempio nella scuola materna avendo la possibilità di fare confronte con gli altri bambini le maestre si rendono conto che un bambino sta arrivando per esempio nell'acquisizione del linguaggio nell'acquisizione di quelli che sono i prerequisiti degli apprendimenti più in ritardo rispetto agli altri bambini quindi il termine di paragoni che le insegnanti hanno nella scuola e la loro grande esperienza fa sì che loro siano di solito le prime persone che se ne rendono conto Verrà inaugurata domani alle 17 nella sala d'annunzio dell'Aurum di Pescara la mostra dedicata a Noemi Sciarretta la bambina di Guardia Grele che sta lottando contro la SMA Andrea Sciarretta, tanta emozione perché oggi viene inaugurata di fatto questa mostra, io sono Noemi tanti ragazzi delle scuole c'è tanto interesse attorno a tua figlia No, noi facciamo in modo che Noemi riesca a far capire realmente cosa significa combattere una patologia così grave far capire cosa soffrono le famiglie il carico assistenziale e cosa noi facciamo ogni giorno questo messaggio deve arrivare a tutti affinché comunque Noemi possa far capire veramente la realtà qual è e più che altro che ci servono interventi concreti che devono partire da tutti dalle istituzioni, dalle persone, dai cittadini questa mostra è testimone di questo perché ovviamente noi abbiamo un'associazione che è il progetto Noemi Hollus stiamo facendo un reparto, sta nascendo un reparto e siamo pronti per dare delle risposte a chi ha bisogno che Natale sarà questo e poi ti chiedo come sta Noemi è un Natale particolare perché Noemi grazie a Dio combatte insieme a noi ieri abbiamo avuto l'onore di far riabbracciare Noemi a Papa Francesco dopo dal 2013 noi siamo contenti perché questo Natale abbiamo avuto l'abbraccio del Santo Padre ma in più abbiamo ancora Noemi tra le braccia che ride, combatte vuol dire che quello che stiamo facendo è concreto auguro a tutti un buon Natale alle famiglie in particolare che soffrono una patologia un abbraccio grandissimo a voi che siete gli eroi di tutti questi giorni speriamo che le persone a Natale appoggino il progetto Noemi più di prima affinché noi possiamo essere concreti Andiamo avanti a Teramo è stata presentata la stagione dei concerti 2016-2017 cartellone in ritardo rispetto al solito per problemi legati ai tagli e ai finanziamenti e alla cultura si parte martedì 27 dicembre con il concerto di Natale andiamo ad ascoltare il presidente del primo Ricci Terri Maurizio Cocciolito Quest'anno partiamo tardissimo perché con questi tagli così importanti che ci sono stati nei nostri confronti insomma è stato già un miracolo riuscire a portare avanti la nuova stagione dei concerti la 38esima poi grazie a dei contributi arrivati all'ultimo momento dalla provincia di Teramo e dalla regione Abruzzo riusciamo anche quest'anno a presentare la nostra stagione sono 14 appuntamenti 14 appuntamenti di livello come diceva appunto lei cominceremo il prossimo 27 gennaio con il concerto di Natale in uno straordinario coro gospel di 35 elementi si esibirà al Teatro Comunale di Teramo e poi c'è tanta musica ci sono solisti, pianisti Roberto Prosseda Giovanni Sollima a Vioncello Massimo Mercelli a Flauto orchestra filarmonica marchigiano orchestra sinfonica abruzzese per tanto repertorio che va dalla musica per così dire del periodo classico alla musica contemporanea e si svolgeranno principalmente della sala polifunzionale della provincia messa a disposizione dall'amministrazione provinciale che voglio qui approfitto anzi per ringraziare e alla slaura magna del convitto nazionale Melchioro Delphi al Teatro Comunale quindi il nostro concerto di Natale invitiamo naturalmente tutti i cittadini a partecipare a questo evento che oramai è diventato una consuetudine per la Diciteli ma anche per la città stessa Ed ora apriamo la pagina dello sport iniziamo ovviamente dal calcio di Serie A e dal Pescara prime trattative sul tavolo dei dirigenti Biancazzurri in vista della finestra di mercato tanta ottesa a gennaio ma le ultime gare del 2016 sono fondamentali a cominciare da quella di dopodomani quando all'Adriatico Cornacchia arriverà il Bologna di Roberto Donadoni partita fra due delle formazioni più in crisi nell'ultimo periodo di campionato e allora andiamo a vedere insieme il servizio realizzato da Andrea Costantini Da un lato il mercato che riaprirà i battenti con il nuovo anno dall'altra la necessità impellente di fare punti per far sì che la finestra di gennaio non resti fine a se stessa sono due i fronti caldi per il Pescara che domenica prossima riceverà all'Adriatico Cornacchia il Bologna di Roberto Donadoni come detto c'è il mercato difesa e attacco sono i reparti che necessitano dei principali correttivi i nomi per il fronte offensivo sono quelli di Ante Budimir e Victor Ibarbo la punta ora alla Sampdoria potrebbe arrivare in prestito specie se in Blucerchiato dovesse giungere dalla Lazio Filippo Giorgevic Budimir lo scorso anno è stato assoluto protagonista del crotone di Juric promosso direttamente in Serie A per il colombiano Ibarbo che sta per chiudere la sua esperienza in Grecia al Panathinaikos si tratterebbe di un ritorno in Serie A dopo gli ottimi anni al Cagliari e quelli meno brillanti alla Roma Maurizio Piniglia ha già salutato i tifosi dell'Atalanta e benché sia ben visto dagli sportivi biancazzurri un suo arrivo in Rival Adriatico il Cileno sembra però fuori portata a livello di ingaggio e potrebbe tornare al Genoa per la difesa ritorno di fiamma per Cesare Bovo del Torino che in estate era stato praticamente acquistato dal Pescara salvo un dietrofront all'ultimo istante intanto la squadra prepara la partita di dopo domani nella quale mancheranno Mitrizza, Baebek, Pepe, Biraghi e lo squalificato Aquilani l'anatore Massimodo dovrebbe confermare dieci undicesimi della squadra sconfitta all'Oscida con Manai al posto di Pepe ma confidando in un atteggiamento diverso nel Bologna mancheranno Rizzo e gli attaccanti Verdi e Sadik vicino al Forfè l'ex Federico Di Francesco il figlio di Eusebio era in ballottaggio con Mugnet per un posto nel tridente ma quasi certamente non ce la farà attacco completato da destro e Creici in mediana Viviani e Naki si contendono una maglia per giocare al fianco di Taider e Zemaili in difesa certi di un posto Gastaldello Maietta e Masina dubbio a destra Kraft Torosidis dirigerà Rocchi di Firenze la partita mette di fronte due delle squadre peggiori del periodo negli ultimi dieci turni sette i punti dei Fessinei due per il Delfino all'Adriatico in Serie A otto precedenti con due vittorie a testa e quattro pareggi e noi andiamo avanti sempre con la pagina sportiva ma scendiamo di categoria adesso andiamo in Lega Pro per parlare del Teramo che prepara il doppio turno casalingo contro squadre Lombarde dopo domani al Bononis arriverà il Feralpi Salò i Biancorossi cercano continuità e maggiore efficacia nelle partite casalinghe il tecnico Lamberto Zauli ripartirà dal modulo 4-3-1-2 e già riproposto a Parma nella prima partita dopo il ritorno sulla panchina del Diavolo a seguito dell'esonero del tecnico Nofri allora andiamo a vedere anche questo servizio Continuità è questo l'aspetto su cui in casa Teramo si approccia la partita di dopodomani contro la Feralpi Salò lo hanno ribadito anche i calciatori Dorazio e Peterman nella conferenza di inizio settimana ogni volta che il Teramo ha sfoderato una bella prova quella seguente è stata una delusione un trend da invertire perché ora il Diavolo è atteso da due gare interne contro Feralpi Salò appunto e poi Lumezzane la prima chiuderà l'andata la seconda aprirà il girone di ritorno così come il Teramo dovrà invertire un altro trend quello casalingo solo 8 punti su 17 sono arrivati al Bonolis il calendario va sfruttato per avere l'abbrivio giusto nella seconda parte della stagione e abbandonare anche con l'aiuto del mercato di gennaio quella zona play-out dove i biancolossi sono tornati a seguito della vittoria nel recupero della maceratese dopo l'ottima prova di Parma Lamberto Zauli ripartirà dal 4-3-1-2 senza i vari Jefferson Petraella Scipioni e Forte ma contando su un centrocampo che in terra ducale ha retto bene mettendo sul piatto tanta qualità con Di Paolo Antonio dietro le punte Carraro davanti la difesa Peterman e Ilari mezze ali dando all'ex Sant'Arcangelo licenza di colpire in zona gol in casa Ferralpi Salò il morale sotto i tacchi l'immeritato K.O. nel recupero di Reggio Emilia conferma il momento no dei Leoni del Garda una vittoria e appena 4 punti nelle ultime 6 partite e squadra scivolata ai margini della zona playoff il tecnico Antonino Asta dovrà rinunciare allo squalificato Gerardi e dovrebbe proporre un assetto speculare a quello del Teramo da verificare le condizioni di alcuni giocatori usciti malconci dal Mapei Stadium Asta dovrà scegliere il sostituto di Gerardi e verificare il ritorno del difensore ex Avezzano Ranen Lucci nel pacchetto arretrato il leader e l'ex lancianese Antonio Aquilanti La festa del Coni Provinciale di Pescara è stata l'occasione per il delegato Emidio Santacroce per tracciare un bilancio dell'attività svolta nel 2016 ascoltiamo l'intervista realizzata da Paolo Sinibandi A Emidio Santacroce ovviamente chiediamo di fare il punto della situazione sul Coni Pescarese un anno di attività un buon bilancio per poter dire come è andata l'annata Sicuramente è stata un'annata io dico non buona ma ottima anche perché sia le società sia gli atleti hanno ottenuto dei risultati notevoli anche per il sacrificio che oggi fanno le famiglie e il Coni supporta questo tipo di attività anche se non eccessivamente ma cerchiamo almeno sotto il profilo organizzativo di dare il nostro supporto Ecco anche nel nel tuo discorso di inizio premiazione hai basato molta attenzione su questo sul sociale sulla crescita sana dei più giovani sul supporto fondamentale delle famiglie senza il Coni e senza alcuni aiuti ovviamente tutto questo non potrebbe avvenire Ma io aggiungerei che il Coni nazionale ha non soltanto su quello che hai sottolineato tu adesso ma anche sulle categorie non sulle categorie protette sui giovani che hanno delle difficoltà motorie ha predisposto una serie di progetti che vanno a favore oltre che dei giovani delle famiglie delle società anche di queste ultime per dare proprio l'infa e aiutare questi giovani a crescere anche loro insieme agli altri Ecco Santa Croce per chiudere qui non dobbiamo dimenticare nessuno però credo che gli altri non si arrabbiano non si arrabbino se io nomino Francesco Di Fulvio se nomino la promozione del Pescara Calcio in Serie A le vittorie del Calcio A5 sia maschile sia femminile la promozione del Pescara Pallannuoto in Serie A1 donne insomma mi sembra che questo sia il vertice poi tanta tanta base importante ma io direi che proprio la base tanta tanta importanza noi diamo proprio a loro una grande visibilità perché la festa di questa sera è sì per onorare il Calcio A5 la Serie A del Pescara la palla a nuoto la palla a volo che hanno ottenuto risultati a livello nazionale e internazionale ma soprattutto vogliamo sottolineare il sacrificio e i risultati ottenuti dai giovani di Pescara e della provincia e questa era l'ultima notizia del nostro giornale vi ricordo i prossimi appuntamenti con il TG6 alle ore 19 poi la terza edizione alle 23 in più vi ricordo che tutti i nostri servizi sono disponibili sul sito internet www.tv6.it e sulla nostra pagina YouTube è tutto per quanto riguarda la nostra informazione io vi ringrazio e vi auguro una buona giornata e vi ringrazio